Per reati a vario titolo di corruzione, turbativa d'asta, peculato e furto, i finanzieri di Brindisi hanno eseguito un'ordinanza cautelare ai domiciliari nei confronti del sindaco di San Pietro Vernotico Pasquale Rizzo, del suo predecessore Maurizio Renna, e dell'ex presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Partecipata di Discussione Tributi Fiscalità Locale SRL Luigi Conte è stata inoltre disposta alla misura cautelare interdittiva della sospensione del servizio per un anno a carico di Cosimo delle Donne, dipendente dello stesso comune. Su richiesta della procura, il GIP ha disposto inoltre sequestri di beni finalizzati alla confisca nei confronti dei sei indagati. Le indagini coordinate dalla procura di Brindisi hanno riguardato presunte irregolarità nella gestione ordinaria di fiscalità locale, società partecipata del comune di San Pietro Vernotico ed incaricata della riscossione dei tributi locali, anche e soprattutto con riferimento ad alcune vicende societarie che hanno poi condotto la stessa fiscalità locale dapprima alla liquidazione e successivamente al suo fallimento. Ulteriori sviluppi investigativi hanno invece interessato l'affidamento di lavori pubblici additte vicine all'amministrazione comunale, previa indizione di gare sostanzialmente fittizie e i furti posti in essere all'interno del comune Salentino. Grazie. 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 Grazie.